La Gazzetta dello Sport Inter processato prestiti per Demiral Milenkovic, c'è stato un nuovo incontro Vedi Reading Milano Skriniar è più vicino all'Inter Il PSG sembra essere scomparso dal radar ma, considerando il loro fuoco e il loro umore è sempre alcuni ballerini nulla può essere dato con certezza Secondo Gazzetta dello Sport I negoziati per le vendite di Andrea Pinamonti ad Atalanta sono davvero promemoria per Maggi Demiral Nerazzurri cercherà di portare le persone turc a Milano sullo stato del prestito con i diritti della redenzione la prossima stagione La differenza può essere una differenza nel tempo di pagamento e nella formula definitiva dall'accordo Anche a Nikola Milenkovic, forse uno dei preferiti si interromperà con l'impossibilità di pagare immediatamente i 15 milioni richiesti dalla Fiorentina e per questo motivo un altro incontro è all'ordine del giorno la prossima settimana con Ramadan Ifali ma è chiaro che chiudersi in breve tempo servirà gli sforzi dell'azienda che finora ha chiuso l'incidente a spendere più soldi prima dell'arrivo del denaro delle vendite nel caso della serie a Serbia non può essere negato da screenar Grazie a tutti! Grazie a tutti!